Siamo all'azienda Santini Noveglio, più una delle maggiori imprese del territorio peserese per quello che riguarda l'installazione, il monitoraggio, la supervisione degli impianti termici in città. Questa fine gennaio è un momento particolare per il vostro settore, è il momento delle supervisioni, delle letture dei consumi di gas alla luce di un anno molto particolare con il cambio delle normative. C'è stato un risparmio energetico ma ci sono state anche alcune anomalie che state rilevando. Sì, noi monitoriamo circa 150 condomini su Pesero e Comune Limitrofi e in tutti abbiamo registrato una diminuzione dei consumi del gas dal 25 al 30%. Quello però che è venuto a mancare è l'efficienza energetica, nel senso che a fronte di un risparmio di gas abbiamo avuto una emissione di calore all'interno degli appartamenti ancora più bassa. Quindi questo ci induce a pensare che ci sia stata una perdita di efficienza, nel senso che abbiamo riscaldato meno gli edifici, meno ore, e in questa maniera abbiamo aumentato le dispersioni. Quindi più calore abbiamo perso rispetto agli altri anni. Questo è dovuto sicuramente al fatto che abbiamo ottenuto al freddo i condomini un tempo maggiore. Abbiamo calcolato una perdita di efficienza dovuta alla dispersione di calore anche del 19% come in questo caso. Abbiamo una diminuzione del 41% del consumo di metano, però questo fa fronte a una diminuzione dell'emissione di calore del 51%. Quindi c'è questa differenza di calore che è stata persa verso l'esterno dell'edificio. Quindi alla luce di queste vostre analisi il dispositivo di legge è corretto nel senso che può essere adeguato una temperatura di 19 gradi nelle case, non è però adeguata la quantità di ore in cui vengono accesi. Sì, negli ultimi anni i vari dispositivi e bonus che abbiamo introdotto sono andati per migliorare l'efficienza energetica degli edifici. Questo dispositivo, non la miglioranza alla luce dei fatti e dei risultati, la peggiura. Quindi noi riteniamo che sia importante una diminuzione di temperature, ma come diciamo da tanti anni, prolungare il periodo di riscaldamento dell'edificio, ovvero diminuire il tempo in cui l'edificio si raffredda, per evitare le dispersioni. Grazie. Grazie.